La politica intende creare lavoro con scelte di burocrazia. Se da domani diciamo che bisogna assumere per legge in realtà si pensa che l'economia, l'industria, la produzione sappia rispondere in questo modo. Io vi dico che non è così e questo lo comprovano un po' tutti i dati economici, tante scelte sbagliate fatte in passato dalla politica. I posti di lavoro si creano con gli investimenti e dietro gli investimenti ci vogliono dei ottimi manager che sappiano soprattutto determinare delle organizzazioni funzionanti. Questo oggi ve lo dimostreremo soprattutto nel settore della ristorazione. Abbiamo il piacere qui di avere con noi Vincenzo Liccardi che è un restaurant coach ma nonché il presidente della FIMAR, quindi proprio della federazione italiana manager della ristorazione. Buonasera Liccardi. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco Liccardi, proviamo a cercare di far capire un po' alla politica quanto sia importante organizzare le attività, quindi le attività di carattere imprenditoriale per ottenere dei risultati. Perché? Come nasce questa FIMAR, questa organizzazione? L'organizzazione FIMAR, quindi Federazione Italiana Manager della Ristorazione, nasce per un'esigenza, quella di far crescere costantemente il ristoratore. Ristoratore che ad oggi non è un vero manager ma è un operatore delle attività produttive nostre italiane, quindi di ristorazione. Io spesso faccio visita a queste aziende e trovo veramente difficoltà nel individuare il manager, quindi il proprietario, il ristoratore, perché è un po' camuffato all'interno delle file dell'operativo. Quindi è molto operativo e laddove tu hai questa operatività costante, sei dentro alla tua attività dove devi cucinare, devi portare a tavolo i piatti, ti distacchi da quello che è il mercato, da come sta andando il mercato, da come si muove il tutto. E oggi siamo in un momento dove le attività vanno veloce, dove il mercato va veloce, o ti aggiorni o sei indietro. E se il ristoratore medio italiano è impegnato in qualche modo a lavorarci dentro al ristorante, lo deve fare ma non in quel modo al 100%, se è impegnato operativamente purtroppo succede che resta indietro, non si aggiorna. Oggi si dice che vince il più veloce, non il più grande. Quindi se ti aggiorni diventi veloce, se non lo fai resti indietro. FIMAR nasce per questo, nasce a supporto dei ristoratori, dei manager, che vogliono aggiornarsi costantemente e hanno necessità di avere nuove tecniche, nuove tecnologie e nuovi schemi di modelli ristorativi. Ecco questo. Ecco, allora entriamo nel clima della ristorazione e poi alla fine delle crisi che possono rinvenire in un esercizio di questo genere, a volte, come si dice, cambia, qualche evento fa cambiare la fortuna o la sfortuna di un ristoratore, però in realtà appoggiarsi solo a eventi casuali o a eventi fatali non fa la differenza. Grazie a FIMAR si può fare qualcosa di più. Vediamo il primo video che ci fa capire un po' come vive il sentimento di un ristoratore. Molto volentieri. Grazie a tutti. 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 risultato. Si può passare dal risultato di sentirsi sconfitti, vicino alla vendita, all'estinzione del proprio sogno, invece a una ripresa, quasi che comunque crea sviluppo, crea sviluppo non solo per l'istruatore, ma crea un indotto perché ha soluzioni personali, quindi posti di lavoro, benessere anche per le famiglie che poi possono trovare occupazione. Allora, quali sono le prime cose che lei insegna nei suoi corsi? Certo, il videoclip è un complimento interessantissimo, simpatico più che altro. Sì, quello che facciamo non solo nei corsi, ma proprio nel sistema associativo nostro, che è un po' diverso, un po' slegato da un sistema associativo politico, facciamo in modo che il ristoratore, il manager, cresca costantemente e si aggiorna. Noi abbiamo una serie di attività all'interno di FIMAR, abbiamo una scuola autogestita dove i docenti sono gli stessi associati di FIMAR che crescono all'interno. Mi sembra che lei ci ha portato anche qualche foto di questa sua scuola, no? Sì, questi sono i ragazzi, sono alcuni imprenditori del Nord Italia, perché poi FIMAR è su tutto il territorio e ci spostiamo anche, di solito andiamo anche nelle aziende. Quindi FIMAR facciamo non solo executive master, quindi master in restaurant and business management, quindi dove insegniamo non solo la parte manageriale, insegniamo a gestire il food cost, a gestire il personale, a tirare il meglio da quello che sono le attività produttive dell'attività di ristorazione, ma in più insegniamo tutte quelle che sono le aree di marketing, di comunicazione, che è quello che oggi funziona sul mercato, nel mercato. Quello che facciamo vedere solitamente all'inizio di un programma di corso è il nostro, che noi abbiamo nominato, il triangolo d'oro. Il triangolo d'oro sono le attività che il manager deve fare, dove sono composte da una piccola percentuale dell'operativo, quindi dico piccola percentuale dell'operativo, una percentuale più grande nella gestione del management, quindi nella conduzione dell'attività, e una percentuale ancora più grande nel marketing e comunicazione. Perché si dice che se nessuno ti conosce, nessuno ti compra, quindi se non comunichi cosa fai, come lo fai, e perché, per chi principalmente lo fai, purtroppo il cliente non si può avvicinare a te, quindi il marketing è in funzionale a questo. Diciamo che non attrai quell'interesse del cliente, no? C'è il cliente che fa business, se sa che il locale ti permette di sederti, mangiare bene, velocemente, leggero, ma con un po' di riservatezza, chi fa business ci va, no? Ci va volentieri al ristorante. Oppure prendiamo chi ci va proprio per staccare con il mondo, quello vuole, casomai, pure la musica dentro al ristorante, perché se l'idea è che per me andare dopo che sono cinque ore sul computer, seduto, immobile, spondo al telefono, cioè queste cose, avere quell'oretta, quelle tre quarti d'ora di stacco totale dal mondo, immagino che può far piacere. Questo è chiaro. E poi, soprattutto, sai, quando si apre immagino una ristorazione, bisognerebbe conoscere anche cosa c'è intorno al ristorante, no? Certo, certo. Ma io penso, oltre all'analisi del territorio, quello che è intorno, suggerisco sempre di cosa vuoi essere tu e qual è il tuo punto di riferimento. Per fare questo utilizziamo un sistema che si chiama Restaurant Business Model Canvas, che è un sistema operativo, facile, di facile utilizzo, di consultazione, che è, diciamo, un anticipo di quello che è il business plan. Lì noi ti facciamo, diciamo, eseguire una serie di dettami dove tu puoi sicuramente capire chi è il tuo target e quali sono i segmenti, ma ancora meglio, qual è il prodotto e il valore che dai al prodotto rispetto al tuo cliente. In più, quello che facciamo all'interno di questo sistema è creare anticipatamente il tipo di relazione che facciamo con il cliente. E questo accade, facendo questo tipo di attività, tu sai anticipatamente chi è il tuo cliente, qual è il valore che devi dare e qual è la relazione che puoi aprire e mantenere per fidelizzare il tuo cliente. Fatto questo significa che hai un canale, una linea guida che puoi costantemente visionare e correggere. Se non fai così, navighi a vista, praticamente. E la maggior parte dei ristoratori che aprono con l'idea di fare una buona ristorazione, poi nel tempo perdono un po' il focus, perché sono concentrati più all'operativo che alla gestione manageriale su come far arrivare e mantenere il proprio cliente. Quindi in questo caso, diciamo, lo strumento di Restaurant Business Model Canvas ti supporta, ti aiuta a dare proprio delle fondamenta concrete alla tua attività. Quindi è chiaro, una persona, diciamo così, si affida a voi e entra nel vostro, diciamo, decide di appoggiarsi a voi per farsi formare, quindi per diventare finalmente anche lui un manager della ristorazione. Dopodiché voi non fate solamente la formazione iniziale, lo seguite, cioè comunque gli state vicino, fate in modo che lui acquisisca bene gli strumenti che voi gli avete insegnato, quindi li sappia maneggiare, si sappia aiutare. Se ha bisogno, si gira e vi trova, una telefonata, una mail, una video chat, quindi siete proprio comunque una sorta di coach a tutti gli effetti. Ci siamo, siamo, siamo anche quello che è il restaurant coach, questa nuova figura che comprende in qualche modo due funzionalità specifiche, due professionalità specifiche. Quella del restaurant manager, quindi con delle competenze chiaramente concrete di gestione di un'attività, delle competenze sul marketing, sulla leadership, su come gestire il personale, come far quadrare i conti, no, in qualche modo. E l'altra parte che è la funzionalità del allenatore, questa figura che è nata negli anni 70 negli Stati Uniti, che è l'allenatore mentale. Perché questo? Perché quest'unione di queste due professionalità? Perché oggi per dare il meglio a livello di ristorazione, ma a livello anche di gestione delle proprie attività, bisogna partire da se stessi, quindi da un equilibrio di se stessi e dall'equilibrio della gestione degli altri. Non è più il momento di gestire le proprie attività come il boss, come il capo, ma come leader. Quindi se partiamo da lì, abbiamo poi l'obiettivo comune di portare con il nostro team, la nostra squadra, Il boss è temuto, il leader è seguito. Il leader è seguito. Che assolutamente è una dinamica organizzativa molto più profigua e più importante, quella del leader. Vediamo un attimo, prendiamo una regione a campione, una regione molto importante, quella di Miglia Romagna, vediamo un attimo i dati dell'Emilia Romagna rispetto al settore della ristorazione. Vediamo i dati, grazie. Da anni si moltiplicano in tutto il territorio i ristoranti etnici che offrono soprattutto cucina orientale, ma anche latinoamericana. A confermare il boom delle attività con ristorazione esotica è il report di Union Camera Emilia Romagna che ha rielaborato i dati del registro delle imprese e delle camere di commercio. Crescono infatti in regione le imprese condotte da stranieri, in particolar modo quelle del settore alloggio e ristorazione che guidano la classifica con un aumento di ben 212 unità nel giro di 12 mesi. La crescita delle aziende straniere decelera rispetto all'anno scorso si registra comunque un più 2,6% per 47.236 imprese che rappresentano l'11,7% del totale. L'Emilia Romagna è la settima regione per crescita in Italia. Nelle altre, leader per sviluppo economico, l'incremento è più rapido in Lombardia e in Veneto. La tendenza all'aumento delle imprese straniere è dominante in tutti i macro settori. L'espansione nei servizi traina quella complessiva. Lo sviluppo della base imprenditoriale estera resta elevata anche nell'industria e nelle costruzioni, bene pur in agricoltura seppur il settore resta ancora marginale per le imprese estere. Quanto alla forma giuridica, la spinta deriva ancora innanzitutto dalle ditte individuali, diminuiscono invece le cooperative e i consorzi. Questo è un altro dei temi cruciali, nel senso che comunque non vuoi una cucina etnica straniera che arriva in Italia perché in realtà lo spazio in Italia per la ristorazione c'è. Questo sicuramente va visto, non in chiave di dire arriva un'altra tipologia competitiva di ristorazione e quindi in realtà mi devo sentire in difficoltà. Cioè questo è un invito agli storiatori italiani a fare meglio e quindi anche loro rinnovarsi anche attraverso il metodo della FIMAR per rimettersi in gioco rispetto alla competitività del sistema. Lei diceva benissimo, bisogna saper correre, cioè bisogna saper stare ai tempi. Posso dirle, forse anticiparli anche ai tempi per ottenere un risultato. Anticiparli sì. E il dato dell'Emilano-Romagna diciamo è un dato reale anche perché supporta quello che il cliente oggi vuole che è un po' la diversità del prodotto. e di fatti oggi si richiede al ristoratore sempre l'unicità, qualcosa di differente, indipendentemente se è un tradizionale, un classico, ma qualcosa di necessariamente differente dal solito, non la solita minestra, diciamo così. E non parlo di prodotto, non parlo di quello che mi metti nel piatto, ma nel contesto in generale. L'altro dato che esce fuori è che sono ditte individuali. E questo è un dato importante che ci dice che in Italia la ristorazione viene vista intanto dai giovani al di sotto dei 35 anni come un punto di riferimento per avere più che un'imprenditorialità un posto fisso che autogenera in qualche modo il proprio stipendio. E questo accade sempre di più sia in Emilia che anche in altre regioni, nel Lazio stesso. Quindi sì, io dico che la ristorazione italiana è ancora viva, in qualche modo. C'è spazio, c'è tanto spazio, ma nel momento in cui decidiamo di aprire un'attività bisogna farlo in un certo modo. Non buttarsi nel mercato così a occhi chiusi. Prima andava bene perché c'era meno concorrenza e c'era chi correva meno di te. Oggi c'è qualcuno che è più veloce di te. Quindi il primo passo è questo. Io, per una serie di circostanze, decido di diventare un ristoratore. Cosa faccio, Whitney? Quali sono i primi passi che oggi lei vi consiglierebbe di fare? Suggerisco la struttura del business model canvas che mi dà l'idea chiara e precisa di come affrontare il mio business. Perché la ristorazione è un business. Non è l'attività come una volta di mamma e papà, dove ci si portava a campare la famiglia. È un business, è un'attività che deve restare nel mercato con alcuni canoni. Quindi, la struttura del piano, del modello che voglio essere verso chi propongo il mio prodotto, prodotto generale, non parlo del prodotto che vado a consumare, ma quali sono gli stimoli che do a mio cliente, qual è la sensazione che il mio cliente deve provare, qual è la mia identità. Fatto questo, poi suggerisco immediatamente la struttura dei vari business plan e del piano sia di marketing e del piano non solo di marketing e comunicazione, ma anche di un piano finanziario corretto e ben guidato. Ecco, queste sono le prime tre aree da andare a coprire e poi dopo la struttura, i colori, diciamo, e il layout del locale stesso, ma prima di tutto le fondamenta partono dal modello di business. Il personale, il personale è una cosa che non possiamo nascondere, incide, incide, perché tanti vedono una ristorazione che il personale è un mestiere di ripiego, non tanti vedono che sia una professione, mentre in realtà tutti gli effetti, diciamo così, essere un personale di grande professionalità può far portare degli ottimi risultati all'esercizio. Come lo possiamo selezionare questo personale? Beh, oltre a selezionarlo bene, perché poi c'è molta professionalità, ma c'è anche un misto di chi vuole intraprendere questo lavoro come un lavoro alternativo di supporto ad alto. Qui la professionalità in giro c'è, ma non tanta rispetto all'esigenza, al numero di attività che stanno aprendo e che sono aperte in Italia. Quindi io direi oltre che alla buona selezione che si può fare con anche delle agenzie di supporto o comunque imparando a fare la selezione, quello che va fatto a questo personale è una costante formazione, un costante supporto a fare bene, perché è evidente che ogni persona che ha delle esperienze differenti porta all'interno di un'attività un modello proprio. Quello che un'attività un ristoratore deve fare è influire col proprio modello gli altri, quindi anche nel rapportarsi col cliente stesso, nel rapportarsi con i fornitori, nel rapporto che si ha all'interno del team. Quindi quello che posso suggerire oltre alla buona selezione è una costante formazione su quello che è proprio il modello di ristorante. Questo sicuramente è importante. Ecco, diceva benissimo il rapporto con i fornitori, soprattutto perché la qualità di quello che metto a tavola dipende, incide dal discorso da chi mi desidero andare a fornire. Come vede lei, quanti le stanno proponendo invece ristorazione diciamo così da agriturismo rispetto invece a ristorazione tradizionale? Vede delle preferenze dei giovani, cioè l'idea di prendermi un pezzo di terra, un casolare e con quello che genera realizzarmi una ristorazione oppure vede più un richiamo a mode internazionale. Ecco, fino adesso cosa ha visto di maggior richiamo? Io giro molto e faccio molte visite anche a neoaziende e vedo legato molto la propria identità alle attività che si vanno poi ad aprire. Quindi è un po' più legato allo stile di vita che il gestore vuole vuole in qualche modo avere. Perché succede questo? Perché si lega, spesso si va a legare l'attività di ristorazione a se stessi piuttosto che al mercato, piuttosto che al business che voglia andare a intraprendere. Questo ci fa capire che il modus per decidere qual è la scelta della propria attività è la propria passione e non sono canoni differenti. Quindi io sono appassionato al vino sono appassionato alla terra e tutto il resto quindi apro un agriturismo con i miei filari dell'uva eccetera eccetera e quindi mi faccio il mio vino faccio diciamo le mie culture e vivo all'interno di quella attività come fosse diciamo il mio punto di riferimento della vita stessa quindi ma sono scelte di vita indipendentemente da uno ha scelto l'altra entrambi diciamo le attività o quella personale o quella imprenditoriale deve comunque avere a mio avviso una base un supporto manageriale che garantisca il buon esito di queste attività perché se no a fine anno ci sono dei problemi da dover affrontare non di poco diciamo conto assolutamente ecco ha dei dati rilevanti che possono far ben sperare il settore della ristorazione ecco da qui da qui in avanti beh i dati sono anche un po' aggiornati sappiamo che in Italia oltre 83 miliardi di euro vengono spesi per il consumo fuori casa e questo è un dato interessantissimo allora ci facciamo una domanda tutti questi questi consumi che poi vanno a generare il fatturato di pochi no e è rilevante in qualche modo ci deve far accendere in la lampadina perché tanti chiudono specialmente i nuovi no le nuove le nuove le nuove apertura nel giro di tre anni chiudono perché non hanno un supporto manageriale e gli altri invece che vanno un po' più più strutturati reggono e mantengono questo questo consumo quindi dobbiamo in qualche modo tener conto di questo il consumo fuori casa c'è c'è su tutta Italia non solo nelle grosse regioni o comunque nelle grosse città quindi l'italiano si sta abituando a mangiare fuori casa e questo è un dato di fatto l'altro dato è che non siamo pronti ristoratori italiani neo ristoratori italiani quindi tenga conto che il 40% delle nuove apertura sono fatte da giovani al di sotto dei 35 anni e questi giovani non hanno esperienza tale non hanno delle competenze tali da poter condurre un'azienda perché poi un ristorante piccolo che sia è un'azienda a tutti gli effetti in Italia lei la suggeriva mi sembra un po' di esperienza la fare anche in un ristorante non tuo cioè un'iniziale esperienza potrebbe essere utile è un periodo di stage per capire gli altri come si muovono un bel corso di formazione un master o quant'altro un supporto di un consulente che sia un consulente di gestione che sia un consulente di gestione non un consulente sull'operativo perché spesso le nuove aziende danno la possibilità certo ai consulenti di intervenire ma tenga conto che spesso si utilizza come consulente il cuoco o comunque lo chef o comunque il maestro che hanno certamente delle capacità operative anche valide ma non sono completi per quanto riguarda la gestione di un'attività nel suo insieme ecco ci sono eventi FIMAR cioè la FIMAR oggi per essere ricercata classico immagino sito internet e tutto il resto ci sono come è il primo approccio come possiamo come può una persona che ha l'idea di fare l'istratore può cercare la FIMAR quindi può cercare lei come approcciarsi a noi periodicamente facciamo degli eventi ne abbiamo appena concluso uno con la partecipazione di quasi 400 associati l'abbiamo fatta allo spazio 900 dell'euro ci si può approcciare a FIMAR in tutti i modi non necessariamente da associati attraverso il nostro sito internet che è FIMARonline.com o mandandoci un'e-mail la possono mandare direttamente anche a me a presidente chiocciola FIMARonline.com e intanto iniziare ad avere dei rapporti con noi a informarsi ad in qualche modo creare relazioni con gli altri manager che fanno parte di questo mondo meraviglioso poi la cosa nasce cosa no? poi andando avanti magari uno si è stimolato a fare il proprio percorso in un modo differente da come l'aveva immaginato potremmo anche ipotizzare l'idea che lei sa ci sono tante persone in questo momento che escono dal mondo del lavoro facevano precedenti i lavori si trovano in realtà messi un po' fuori dal mercato in realtà si trovano una piccola liquidazione dovuta anche alla fine l'interruzione di quel lavoro anche l'interruzione dove a volte ti danno quei 36 mesi e altro l'idea di approcciarsi a voi per ragionare se quelle risorse e investirle per realizzare una piccola impresa qui si parla sempre di questo il dibattito della politica parla del reddito di cittadinanza si dice sei disoccupato ti diamo un reddito di cittadinanza e poi finché ti facciamo tre proposte di lavoro che tu assolutamente non puoi rifiutare se no perdesti questo sussidio ma nessuno ha detto oggi ti diamo il reddito di cittadinanza mentre te lo diamo hai l'opportunità di venire a prepararti e a formarti ad esempio alla FIMAR per diventare un manager della ristorazione a quel punto quindi mentre dicevo il reddito di cittadinanza quindi sono tranquillo ho questo reddito e in realtà dopo mi preparo per essere un manager e quindi in realtà non ho bisogno che mi offra un lavoro il lavoro me lo creo questa potrebbe essere un'opportunità bella idea nel senso possiamo anche un po' supportare questa idea ci sono dei dei vantaggi a livello europeo di corsi di formazione noi stiamo accedendo anche a questo tipo di attività per poter offrire a chi è temporaneamente disoccupato ad avere delle competenze maggiori ma quello che FIMAR sta facendo è che gratuitamente noi mettiamo a disposizione un percorso per gli associati chiaramente che si chiama RBM Program quindi Restaurant e Business Management Program ed è un appuntamento mensile di 3-4 ore che facciamo un primo lunedì del mese alla nostra sede qui di Roma e per tutto l'anno quindi una volta a mese c'è un incontro con i nostri docenti e con gli altri che vogliono partecipare quindi si fa formazione continua è una sorta di palestra quindi tu vuoi o non vuoi sei un ristoratore o non lo so o lo vuoi diventare ti iscrivi a questa palestra e costantemente ti aggiorniamo e ti formiamo su come deve andare la tua attività ma c'è a luglio un incontro l'incontro c'è il prossimo lunedì quindi a giugno è ancora giusto che data ci dica a giugno lunedì lunedì 25 giugno c'è un incontro dove? al Circo Massimo via del Circo Massimo numero 9 che è la nostra sede operativa di FIMA delle altre nostre associazioni e alle 15.30 per accedere bisogna però iscriversi a FIMA quindi abbiamo il weekend a disposizione per andare sul sito della FIMA andarsi a iscrivere e non perdere l'opportunità prima di andare in vacanza all'estate di andarsi a fare questo RBM program quindi questa palestra questo che comunque può darti dei spunti delle possibilità io direi che è una cosa che è da fare visto che c'è lunedì alle 15 basta nel weekend iscriversi e immagino che si potrà accedere il 25 al corso in aula certo mi mandano un'email e poi io rispondo magari intanto vengono e poi noi parliamo e questa mi sembra già una notevole opportunità da mettere in campo e la seconda cosa abbiamo detto non è che aspettiamo che qualcuno ci offra il lavoro cioè il lavoro creiamoci si può anche creare perché la FIMA ti offre anche gli strumenti per poter alla fine farti capire se hai le potenzialità o comunque te le crea alla fine come diceva lei essendo voi dei coach è un discorso anche di allenamento è un discorso anche di crescita quindi si può essere inizialmente meno capaci ma il coach serve anche a portarti ad essere un po' più bravo un po' più competente c'è un'assistenza continua c'è proprio un affiancamento e poi il coaching che facciamo il restaurant coach fa proprio questo ti sta a fianco e ti guida ti suggerisce ti guida ti supporta le capacità le metti tu gli strumenti anche che ti diamo li metti tu ma quello che facciamo è non ti facciamo fare errori ti diamo diciamo la visione giusta quando poi sei pronto ti lasciamo andare ecco questa è un po' la sintesi casomai veniamo al tuo ristorante a mangiare quello lo mettiamo nel contratto soprattutto per gustare la buona buonissima cucina italiana non so se abbiamo messo qualcosa di alto di importante che lei voleva rappresentare rispetto al discorso io penso che abbiamo un po' detto tutto invito chiaramente chi ci ascolta ad andare nel nostro sito a vedere come sono le nostre attività e quello che facciamo anche perché all'interno proprio del processo noi abbiamo un sistema di comunicazione un sistema di crescita che abbiamo chiamato ODACA e questo sistema che è un acronimo di alcune parti diciamo di questa formazione questo sistema che abbiamo messo in piedi che va attraverso il web attraverso comunque le learning e il rapporto che sta con noi con il rapporto con noi all'interno dell'associazione stesso fa sì che chi è iscritto o chi ci viene solo ad assistere possa crescere costantemente insieme a noi quindi io suggerisco di andare in internet a vedere il nostro sito che abbiamo diversi è fimaronline.com e quindi poi in ogni caso scrivermi e da lì si apre il mondo si apre il mondo io lo auguro lo auguro a tutti quanti i nostri giovani ecco abbiamo detto i posti di lavoro e le crescite e l'economia non si fa per legge e burocrazia ma si fa con le buone idee come quelle di Luzzardi e della e della FIMAR io la ringrazio grazie a lei la richiameremo sicuramente in autunno per sapere come vanno un po' le sue le sue attività volentieri un po' di pubblicità grazie grazie a tutti